nessun rancore sul tavolo pane a fette olive salame pizzette hai già pronto anche il risotto vi aspettiamo per le otto squilla il telefono come non ve lo siete ricordato qui è tutto apparecchiato ci rimango male come nessun rancore scuse accettate ma portate le pizze se tornate le indulgenze vanno meritate